Musica E là, che bel pubblico, buonasera E io mi devo presentare, perché questa sera io non sono io In questa storia io sono niente poco di meno che l'ispettore di polizia padre Vito l'americano, il mio papà di Lugione Mentre mia madre di origine italiana Il suo papà, mio donno, proviene la mattina a pranzo A casa di mano, si parlava partenense Quindi io sono io, partenense Sì, ma scherzi a parte Questa è una storia ambientata in America Su finire degli anni cinquattro Quando io ero un agnone Ambiente normale Fumo Un po' di fumo È un'epoca caratterizzata dalla paura degli ufo Dalla guerra fredda E lì dall'americano Alla sparizione improvvisa di bambini Negli Stati Uniti Spariscono circa 800 bambini E lì dall'americano Ma si creava gioco Ho pensato Anche in Europa E in Italia Non solo da me Negli ultimi 40 anni In Italia Sono scomparsi circa 12 mili Una vergogna Una vergogna, vero? Un po' di fumo Un po' di fumo Un po' di fumo Un po' di fumo